...azione, quindi aspetta... Ciao a tutti quanti ragazzi, qui è Vittorio Loffredo e benvenuti in questo nuovo vlog Non facevo un vlog da un sacco di tempo perché... non lo so Però adesso c'è un diluvio che sta continuando da tipo 84 ore E quindi niente, non posso uscire, non posso fare niente e quindi vloggiamo Innanzitutto volevo aprire questa lettere che mi ha inviato uno di voi E cosa c'è dentro? Cosa? Ci sono dei baffi finti? Gli ho sempre desiderati ma tipo non li trovo mai in giro Cioè, dove l'hai comprati? Chi è che me l'ha inviato? Ciao Vittorio, sono un tuo iscritto e ho deciso di iscriverti Per favore mostrali in un video Ah, dimenticavo, fai questa battuta squalida Lo sai come fa un tordo a lavarsi i denti? Con i stordenti Dammi il potere dei baffi adesso Pizzami, Mario Stavo morendo E niente, ti ringrazio per questi baffi, ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5 Se anche voi volete inviarmi dei oggetti Troverete tutte le informazioni qua sotto al video, nella descrizione O nel primo commento, non lo so Ovviamente tutto ciò che mi inviate lo mostrerò in un video Tutto quello che mi inviate, tutto, tutto quello che mi arriva io mostro Volevo dirvi comunque che sul mio profilo musical.ly sto caricando un sacco di video di magia Quindi se vi va andate a vederli A proposito, volevo scusarmi se nei video di Vittorror Urlo un poco 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 Aiuto! Aiuto! Comunque se volete andarle a vedere li trovate sulla i qua sopra O qua sopra, dov'è la i? Da queste parti sta comunque E vi farete un sacco di risate su questo povero Vittorio Che si spaventa ogni due secondi Perché sì, io sono un cagasù Io ho paura, ho paura dei clown, ho paura delle galline Ciao Vittorio, fai un video con le scarpe razzo? Ragazzi voi siete più pazzi di me Ho paura Eccole qua ragazzi, le scarpe razzo Con queste qua volerò, adesso vi faccio vedere Prima di iniziare però sono riuscito a nascondermi anche in questa foto Sono introvabile Ragazzi, se riuscite a vedermi mettete mi piace Vediamo quanti ci riescono Mamma mia, che macello che sta in camera mia Non si capisce niente E nulla, adesso andiamo a provare le scarpe Si dovrebbero attivare dall'applicazione Quindi aspetta Ok, mettiamole Ok, sono pronto, sono pronto, sono pronto Ok, pronti? 3, 2, 1 Paura, paura, paura Ok, non lo farò mai più È stata un'esperienza terribile Però è stato divertente Se vi vengono in mente altre magie o invenzioni straordinarie Che possiamo provare insieme Scrivetele nei commenti E io le realizzerò Tutto quello che vi passa nella testa Non lo so Adesso mi avete consigliato le scarpe razzo Quindi inventatevi qualsiasi cosa E io la mostrerò nel prossimo video Qui vi trovo Alfredo E noi ci vediamo come sempre Alla prossima